La situazione scuole a Campobasso è un argomento delicato. Sono tanti i plessi che negli ultimi 15 anni sono stati chiusi. Di questi alcuni dovrebbero essere abbattuti e ricostruiti in breve, si fa per dire, come la Montini e la scuola Francesco Iovini. Altre invece sono andate nel dimenticatoio. Fra queste, senza dubbio, la scuola salvo d'acquisto in via Kennedy, nella parte alta del quartiere Vazieri. È stato uno dei primi plessi ad essere chiuso dall'allora amministrazione Gino Di Bartolomeo. Troppi problemi strutturali, irrisolvibili, anche da lavori di messa in sicurezza. L'edificio è stato messo in vendita diverse volte, con aste andate deserte. Ad inizio 2022 si parlava di una possibile demolizione del plesso per fare spazio ad un polo di infanzia, grazie ad importanti fondi provenienti dallo Stato, ma poi il nulla di fatto. E a novembre, sempre del 2022, la scuola è stata messa nuovamente all'asta. L'edificio versa in condizioni di degrado ed il lungo abbandono non ha fatto altro che creare situazioni di disagio per gli abitanti del quartiere, che lamentano la presenza di topi e di spazzatura. Una situazione che difficilmente sarà risolvibile nel breve tempo. L'ex scuola salvo d'acquisto non è la sola ad avere un destino incerto. Sono altri plessi che urlano giustizia, come quello di Contrada Mascione, che più volte abbiamo trattato nei nostri servizi. In quel caso la scuola è stata sì abbattuta, ma la ricostruzione è ferma da anni. A breve partiranno i lavori per la scuola Ponte di Selvapiana, che ospiterà gli alunni della Jovine, che sarà abbattuta e ricostruita. Sulla questione seguiranno aggiornamenti.